I soldi nel cassetto stanno ammuffendo i bambini con le famiglie costrette a vivere nel limbo per quanto riguarda il futuro della scuola. E' un passaggio della nota del Comitato Scuole Sicure che riaccende riflettori sul futuro del plesso scolastico Lombardo Radice e di ieri la scena immortalata dai genitori che riguarda la sede provvisoria nell'ex Croce Rossa con i calcinacci caduti e una parte dell'edificio transennata per forza di cose. Ma il Comitato spinge il piede sull'acceleratore per i lavori nella sede storica di Viale Togliatti sollevando una serie di dubbi che ancora vengono sciolti. Che fine faranno i bambini di oggi e di domani iscritti alla Lombardo Radice? Si chiedono i componenti del Comitato. Dopo il silenzio assordante da parte dell'amministrazione sul doloroso capitolo Scuole Sicure il Comitato vuole sapere cosa ci aspetta, cosa attende centinaia di bambini e di genitori nel prossimo futuro. Dal Comitato ricordano che i lavori di adeguamento sismico non sono partiti, i lavori per il nuovo polo nemmeno. Ci chiediamo a questo punto se forse sia il caso di rassegnarsi e dover usufruire di un'edilizia scolastica vetusta e pericolosa in caso di sisma. Ai posteri l'ardua sentenza. Conclude la nota.